Partiamo fra due ore e non hai ancora fatto le valigie Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi Buona, vero? Sì Verona, dove Romeo ha incontrato Giulietta Sofia, perché sei tu mia dolce Sofia? C'è un posto dove chi soffre per amore lascia biglietti per chiedere aiuto a Giulietta È lì che ho scoperto una lettera che ha cambiato la mia vita per sempre Non sono andata da Lorenzo Dovevamo incontrarci per scappare insieme Ti prego Giulietta, dimmi cosa devo fare È stata scritta nel 1957 Devo rispondere Posso chiedere chi di voi ha scritto questa mia nonna? L'ho scritta io, è venuta a cercare il suo Lorenzo Posso venire con voi? Con noi? Sì, certo Cerchiamo Lorenzo Bartolini Sono io Lorenzo Bartolini Sono io Lorenzo Sono io Lorenzo Sono io Lorenzo Bartolini Prendetevelo, prendetevelo È una follia Devo restare con lei? Ora non è un buon momento, sono molto impegnato Il tuo fidanzato non comincia a sentirsi un po' solo? Temo che non si accorga che non ci sono Dici che la troviamo? Lorenzo? Sì Quante Sofia credi che ci siano sul pianeta? Non aspettare 50 anni per ritrovarla? È una storia di storia Baby, just say bless sindarale precedenti Non aspettare 60 anni per dimostrarla? Lo radio è vero